Come state? Sono messa il burro di cacao, ma l'ho messo troppo. Allora, spero che stiate tutti bene e spero che siate anche pronti per la lezione di oggi. Oggi parliamo di connettivi logici, ovvero quelle parole che sono delle congiunzioni. Siete pronti? Allora, come sempre vedrete la presentazione sullo schermo, così, e quindi potrete seguire quello che dico. Va bene? Allora, ditemi se ci siamo. Ciao a tutti, ciao a tutti e benvenuti. Sto leggendo la chat, ma qui sotto. Eccovi. Ciao. Allora, iniziamo subito, non perdiamo tempo. Allora, vediamo subito. 20 connettivi logici, che sono essenziali in italiano, nel senso che sono quei connettivi logici, quelle congiunzioni di base, che ci servono per le frasi di tutti i giorni. Allora, i connettivi logici sono delle parole che ci permettono di unire due o più frasi, creando un periodo di senso compiuto. Come dicevo prima, i connettivi si chiamano anche congiunzioni. Ogni connettivo o ogni congiunzione ha una funzione specifica e ce ne sono vari per ogni funzione. Quindi, per una stessa funzione possiamo avere due o tre connettivi, che quindi sono dei sinonimi. Allora, le congiunzioni che vedremo insieme sono queste, sono venti. Quindi, e, o, sia, sia, né, né, ma, però, eppure, cioè, infatti, perché, affinché, così, che, quindi, perciò, così, se, qualora, nonostante, benché, anche se, anche se, ok? Quindi, ovviamente questa lista la rivedremo nel corso della presentazione, però se volete appuntarvi queste congiunzioni, fatelo, siate liberi di farlo. Non so se state prendendo appunti, fatemi sapere se prendete appunti oppure no. Allora, iniziamo subito con e e o, però forse faccio così, perché così voi potete vedere quello che io seleziono, perché non ho messo l'animazione. Allora, cominciamo con e, che significa and. E ha una funzione aggiuntiva, che vuol dire. Vuol dire che le informazioni che noi uniamo nella frase sono unite anche dal punto di vista logico. Per esempio, se io dico oggi studio e mi alleno, quindi oggi io farò entrambe le due azioni, ok? Farò sia la prima che la seconda azione, quindi studio e mi alleno. Nel secondo esempio, vuoi il caffè e il latte? Io sto chiedendo se la persona vuole tutte e due. Quindi, il caffè e il latte, insieme. Questo vuol dire la funzione aggiuntiva, quindi si aggiunge un'informazione all'altra. Al contrario, la O oppure O ha una funzione disgiuntiva, che vuol dire che separa le informazioni. Quindi, se io dico oggi studio o mi alleno, significa che faccio una o l'altra azione. Non tutte e due, una o l'altra. Quindi, devo scegliere quale fare, studiare o allenarmi. Stessa cosa nel secondo esempio. Vuoi il caffè o il latte? La persona mi sta chiedendo di fare una scelta. Il caffè o il latte, non tutte e due. Va bene? Ovviamente, queste sono le congiunzioni o i connettivi logici più semplici e quelli che già conoscete. Perché li usate già. Sono quelli più, diciamo, spontanei da usare, no? Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti con sia-sia. Anche se qui forse dovrò fare la presentazione perché altrimenti non si legge. Ma comunque. Allora, sia-sia significa both and. Sia-sia ha una funzione correlativa in positivo. Quindi, che cosa vuol dire? Vuol dire che, anche qui, metto in correlazione due elementi e quei due elementi vengono considerati dalla mia azione. Allora, però, no, si copre lo stesso. Allora, facciamo così. Ok, così si vede bene. Non vedete me, ma non fa niente. Vedete la presentazione. Ok. Quindi, se io dico studio sia gli appunti, sia il libro, che cosa significa? Significa che includo gli appunti e il libro nel mio studio. È come se dicessi studio gli appunti e il libro. Però, se voglio sottolineare il fatto che io studio su entrambi, uso sia-sia. Quindi, studio sia gli appunti, sia il libro. Stessa cosa per l'esempio sottostante. Voglio sia l'antipasto, sia il dolce. Quindi, non voglio precludermi niente. Voglio sia l'antipasto, sia il dolce. Voglio mangiare tutte e due. Allora, qui vi dico che il secondo sia può essere sostituito con che nella conversazione di tutti i giorni, all'orale, soprattutto. Però, dovete fare attenzione. Perché quel che potrebbe confondersi con un che relativo nella frase o un altro tipo di che. Quindi, bisogna stare attenti. Per non confondersi, io consiglierei di usare sia-sia. Quindi, ripetere sia. Passiamo ora a ne-ne. Che significa neither, nor. Nè-ne ha una funzione correlativa, ma in negativo. Quindi, se io dico non studio né gli appunti né il libro, vuol dire che non studio nessuno dei due elementi. Se io dico non voglio né l'antipasto né il dolce, significa che non prenderò nessuno dei due elementi. Nessuno dei due pasti. Cioè, né l'antipasto né il dolce. Qual è l'elemento di queste frasi? È che è necessario aggiungere non alla negazione. Forse se lo sposto qua lo vedete, perché so che c'è il video davanti. Quindi, è necessario aggiungere la negazione non alla frase, quando utilizziamo né-ne. Non sempre, ovviamente. Dipende dal contesto, perché se è una risposta, potremmo non aver bisogno del non, però in una frase, come quella che vedete nella presentazione, abbiamo bisogno del né. Ok? Allora, Johanna ha scritto Voglio comprare sia il vino, sia la cioccolata. Posso avere le due? No, non diremmo, posso avere le due, ma diremmo, posso avere entrambi? Ok? Quindi la parola da usare è entrambi. Andiamo avanti. Abbiamo Ma, però, eppure Qua posso ringrandire il video. Allora Ma, però, eppure Che significano What, though, yet? Hanno una funzione avversativa, cioè di opposizione. Che cosa significa? Significa che l'informazione della frase principale è in opposizione con l'informazione della frase subordinata. O meglio, Io dico una cosa, quindi la frase principale è l'informazione introdotta da ma, però, eppure, si trova in opposizione con quanto detto prima. Cioè, esempio Sei stanco, ma sei andato a ballare? Sei stanco, però sei andato a ballare? Sei stanco, eppure sei andato a ballare? Non ha studiato molto, ma, però, eppure, ha passato l'esame. Quindi, vedete, sono informazioni che si trovano in opposizione. E possiamo usare ma, però, eppure, in una stessa frase, perché hanno la stessa funzione, e quindi possono essere sinonimi nelle frasi. Possiamo intercambiarli. Allora, vedo delle domande, scusate, mi sto distraendo dalle domande, sempre su entrambi. Allora, entrambi o entrambe, cambia di genere e numero a seconda dei sostantivi. Non si può dire tutte le due. No, non si può dire. Si usa la parola entrambi o entrambe, maschile o femminile. Allora, andiamo avanti. Cioè, infatti. Cioè significa that is to say, e infatti può significare as a matter of facts. Hanno entrambi una funzione esplicativa, di spiegazione. Una funzione anche dichiarativa, quasi di giustificazione, per quanto riguarda infatti. Lo vediamo dopo. Un esempio. Devi studiare questo saggio, cioè leggerlo e comprenderlo. Quindi, con cioè, introduco una spiegazione di studiare. Cerco di spiegare che cosa intendo con studiare. Intendo dire che devi leggere e comprendere questo saggio. Altro esempio. Tutti comprano la farina, infatti se ne trova poca nei supermercati. Come vedete, infatti, introduce un'informazione che aggiunge un'informazione alla frase principale e, in qualche modo, dà una spiegazione, dà una conferma di quello che io ho appena detto. Tutti comprano la farina, infatti, se ne trova poca nei supermercati, quindi io spiego ulteriormente la situazione. Allora, adesso veniamo a perché. Perché è interessante. Allora, mi metto qui. Qui su. Non mi vedete, ma vabbè, pazienza. Oppure mi metto qua. No, non si vede, mi metto qui. Allora. Perché Può essere sia causale, sia finale. Quindi perché può avere due funzioni che sono in realtà contrastanti. Quindi dobbiamo fare attenzione alla frase. Quindi perché può significare because, ma anche so that. Oppure in order to. Allora, vediamo prima la funzione causale. Cioè, introduce la causa di quello che è successo nella frase principale. Quindi, ho rimandato la mia presentazione perché mi è andata via la voce. Quindi, mi è andata via la voce. È la causa per cui, è il motivo per cui io ho rimandato la mia presentazione. Il secondo esempio. Non faccio lezione oggi perché sono stanca. Quindi, sono stanca è il motivo per cui non faccio lezione. Quindi, perché introduce la causa dell'azione principale. E questo è l'uso che tutti conoscete di perché. È l'uso più, come dire, più studiato e più spiegato. Però perché ha anche una funzione finale. Come lo capiamo? Lo capiamo dalla frase. Che vuol dire funzione finale? Vuol dire che perché non introduce la causa, ma l'obiettivo dell'azione principale. E appunto, significa in inglese in order to, oppure so that. Quindi, cambia totalmente la funzione nella frase. Leggiamo il primo esempio. Ho chiamato il servizio clienti perché mi aiutassero con un problema. Cosa notate qui? Notate che perché finale è seguito dal congiuntivo. Ok? Questo è l'elemento che ci fa capire se perché è finale o causale. Se nella frase perché è seguito dal congiuntivo, allora è senza dubbio finale. Un altro esempio. Ha annullato degli appuntamenti perché avesse più tempo per il progetto. Quindi, ha annullato degli appuntamenti in modo da avere più tempo per il progetto. Quindi qui perché introduce l'obiettivo. Tutte queste slide rimarranno nel video. Il video rimarrà sul mio canale YouTube, quindi potrai riguardarlo. Allora, quindi, attenzione con perché. Analizzate sempre la frase che leggete. Andiamo avanti. Allora, affinché, cosicché. Ed eccoci che arriviamo alle congiunzioni che hanno una funzione finale. Quindi, negli ultimi esempi che abbiamo visto, perché è un sinonimo di affinché e cosicché. Allora, abbiamo detto che è affinché, cosicché. In realtà, qui dovrei dire, dovrei mettere una correzione e dire anche così da. Perché dipende dalla frase. Allora, queste due congiunzioni hanno funzione finale, quindi l'obiettivo è importante, introducono l'obiettivo dell'azione principale. Allora, vediamo il primo esempio. Quindi, l'obiettivo della madre è quello di far continuare la figlia negli studi, ok? Qui devo un attimo correggere per quello che vi dicevo prima. Cosa notate dopo? Notate che il verbo è al congiuntivo, ok? Quindi, affinché, cosicché, vogliono poi un verbo congiuntivo dopo. Leggiamo un altro esempio. Si avvantaggia con i compiti, ma qui devo dividere le due frasi, scusate. Allora, si avvantaggia con i compiti affinché possa avere un po' di tempo libero nel fine settimana, oppure si avvantaggia con i compiti così da avere un po' di tempo libero nel fine settimana. Perché ho messo così da e non cosicché? Di questo abbiamo parlato in un video qualche settimana fa. Perché il soggetto è sempre lo stesso, non cambia, è sempre lui, lei, si avvantaggia con i compiti, così da avere un po' di tempo libero nel fine settimana. Il soggetto è sempre lo stesso, non cambia. Mentre qui nel primo esempio sì. Prima c'è la madre e poi dopo c'è la figlia e quindi io devo dire che, così che, perché devo coniugare il verbo. Qui nel secondo esempio non posso farlo perché il soggetto è sempre lo stesso e quindi non coniugo nuovamente il verbo dopo. Dico semplicemente così da avere. E' come l'esempio, per farvi un altro esempio, è come l'esempio di penso di andare. Non posso dire penso che vado, ok? Va bene, è lo stesso discorso. Quando c'è il soggetto che è uguale per entrambi i verbi, il secondo verbo rimane all'infinito introdotto da di. Quindi di vuole essere sempre seguita come preposizione da un verbo all'infinito. Che vuole invece sempre un verbo coniugato dopo. Ok? Va bene? Allora, Antonio scrive che secondo lui in modo che, in modo da sono molto più usate di così che, così da. Io direi invece che sono allo stesso livello di uso. Non ce n'è uno che è più usato dell'altro. In modo da, in modo che, così che, così da. Sono assolutamente equivalenti. Allora, andiamo avanti. Siamo arrivate, siamo arrivati, siamo arrivati, arrivate a quindi, perciò, così. Che significano therefore, so. Hanno tutte e tre queste congiunzioni una funzione conclusiva, cioè arrivano ad una conclusione logica del significato della frase. Per esempio, la mia amica è dovuta partire all'improvviso, quindi, perciò, così il nostro incontro è saltato. Quindi, si arriva alla fine dell'azione, alla fine dell'azione sostanzialmente, ad una conclusione. L'incontro non c'è stato, la mia amica è dovuta partire all'improvviso. Il secondo esempio è, Martina ha litigato con Andrea, quindi, perciò, così non andrà alla sua festa. Quindi, visto che dal momento in cui Martina ha litigato con Andrea, non andrà alla sua festa. Ho visto che hanno litigato, non andranno alla festa insieme. Quindi, la conosciamo, anche perciò, penso. Sono quelle, diciamo, che si imparano fin dall'inizio. Che vuol dire si avvantaggia? Questa era nella slide prima. Si avvantaggia con i compiti, cioè si porta avanti con il lavoro, Cioè, fa dei compiti adesso, per la prossima settimana. Anche se non sarebbe obbligato a farli adesso, perché sono compiti per la prossima settimana. Veniamo adesso a se e qualora, che hanno una funzione condizionale, quindi introducono un'ipotesi. E significa se, significa if, qualora, significa in case. Se piove, restiamo a casa. Presente, presente. Frase semplicissima. Questo è un periodo ipotetico di primo grado, quindi, della realtà. Se decide di venire, con noi, per esempio, da un posto per lei in macchina. Anche questo. Periodo ipotetico della realtà. Se. Però possiamo anche decidere di usare qualora, per rendere la frase un po' più elegante, se vogliamo. E quindi diciamo, qualora piova o qualora piovesse, resteremo a casa. Qualora decida o qualora decidesse di venire, c'è un posto per lei in macchina. Quindi vedete che se scegliete di usare qualora, poi il verbo deve essere al congiuntivo. Dopo possiamo in realtà scegliere se usare il congiuntivo presente o quello imperfetto. Vanno entrambi bene, però deve essere congiuntivo. Ok? Quindi qualora rende la frase un po' più sofisticata, diciamo. Altrimenti, se volete fare frasi più semplici, va benissimo il SE. Per, appunto, introdurre un'ipotesi. Ok? Allora, andiamo avanti. E finiamo con nonostante, benché e anche se. Queste tre congiunzioni significano even though ed hanno una funzione concessiva. Anche qui dobbiamo distinguere tra nonostante, benché e anche se, per la questione dei tempi verbali. Nonostante, benché e anche se non abbia più un lavoro, continua a vivere come se ce l'avesse. Nonostante, benché vivano insieme, si vedono poco. Allora, che cosa notate? C'è il congiuntivo nelle frasi. Quindi, nonostante e benché, vogliono essere seguiti da un verbo coniugato al congiuntivo. Presente, imperfetto, quello dipende dalla concordanza dei tempi. In queste frasi ho usato il presente congiuntivo perché è quello che più si addice per quanto riguarda la concordanza dei tempi. Se invece avete dei dubbi su come coniugare il congiuntivo o i verbi al congiuntivo, usate anche se, anche se è la versione più facile di nonostante, benché, perché dopo vuole il presente indicativo. Quindi, anche se non ha più un lavoro, continua a vivere come se ce l'avesse. Anche se vivono insieme, si vedono poco. Ok? Quindi, questa è la versione più semplice. Se avete dei dubbi, usate anche se. Se invece vi sentite a vostro agio ad usare il congiuntivo, usate nonostante e benché. Ok? Quindi, siamo arrivati alla fine di questa lista. Abbiamo visto tutte queste. Abbiamo visto e, o, sia, sia, né, né, ma, però, eppure, cioè, infatti, perché, affinché, cosicché, quindi, perciò, così, se, qualora, nonostante, benché e anche se. Questo video, questa lezione rimarrà ovviamente sul mio canale e voi potete riguardarla dopo se vi siete persi la prima parte, oppure se volete riguardarla per prendere appunti e segnarvi tutti gli esempi che vi ho fatto vedere in queste pagine. Provate a scrivere delle frasi con queste congiunzioni e poi, se volete, lasciatele come commento al video, così posso leggerle. Va bene? Allora, io vi ringrazio, come sempre, per esservi connessi. No, Marco, oggi niente è pesce d'aprile. Oggi è il primo aprile, è il pesce di aprile, ma io non ho alcun pesce d'aprile per voi. Spero che questa lezione vi sia piaciuta e, anche se avete altre domande, lasciatele nei commenti, va bene? E ci vediamo prossimamente in un altro live o in un altro video. Grazie ancora, a presto, ciao a tutti, un bacio! Ciao a tutti, ciao a tutti!